Il tuo turno! È il tuo momento! Tiriamo i dadi! Buona fortuna! Che giornata fantastica per giocare a Monopoli! Pensiamo agli affari e creiamo un impero! È arrivata una notifica! La banca cerca un investitore! Chi sarà il futuro? Non comprarla! Agita i dadi e vediamo cos'è in serbo per te il destino! Ma si che so che cosa fare! Sono Carminelli Immobiliari! E' la tua occasione per possedere una proprietà immobiliare! Sei pronto? Ah ho messo la regola del doppio uno eh! Faccio il doppio uno! Da mille... E' qui! Ah! Non sei nei guai! Non sei nei guai! Doppio! Questa proprietà è alla ricerca di un aquilette! Sarai tu! No! 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 Doppio! Luanzo! Cosa, tuba es Mi sa che devi fare fine no? Se non prende il coso Laga E beh Lo sai che volevo fare un tabellone io? Io ho un My Monopoly Via Consuelo Via Garminiello No 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 Devo mettere le foto dei gatti O foto di Amur Batta tipo in prigione Questo si che è uno spettacolo Vaffan Che culo Comunque bisogna farla la versione Troppa agenda è qua No No Questa proprietà è davvero carino Ti sei fermato su una proprietà di vita Vuoi fare un investimento Questa proprietà è in vendita è ora di diventare un proprietario Il tuo turno inizia ora Qualcuno possiede già questa proprietà è ora di pagare l'affitto I trasporti sono un settore molto redditizio Allora 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 Hai denaro sufficiente per acquistare questa proprietà Vuoi fare un investimento? Questa proprietà Si paga HTO Bisogna pagare il prezzo Beh che aveva bisogno non esiste un treno su cui non salirei è il tuo turno puoi acquistare questa proprietà cosa vuoi giochiamo stiamo comunque dividendo un po' tutto Manopoli già vedo che abbiamo una di un colore ognuno tipo quella azzurrina ce l'abbiamo tutta devi pagare l'affitto pure il marrone e paga è un colore 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 sapevo che lo volevi è un colore osi è un colore super guardi tutto vai Fungu vabbè va andassi vai che il giallo non ce l'ha no ce l'hanno già la macchinona su una partita come questa possono servire a stazione che mi sa che qua non costruisce nessuno ecco un giallo come per l'azzurino ce l'abbiamo in tre buona fortuna devi pagare questo giocatore vaga coglione è raggiunto livello 16 benvenuto mammonò tiriamo i dati non do più uno non do più uno non do più giù non la compro ci devo pensare ci penso ci penso questo è un bel tiro sono sicuro che preferisci stare da questa parte delle sbarre non arrenderti non arrenderti la perseveranza è la chiave del successo giochiamo vediamo se la fortuna è dalla tua parte ehi vai amario è la tua occasione per possedere una proprietà di familiare sei pronto? ah questo già possiamo fare i porchetti che colore è quello che ha preso te? viola? no sa viola si te capisci comunque se l'abbiamo solo io e te è giusto sembra che c'era nessuno sicuramente puoi usare i tuoi soldi per qualcos'altro no perché sappi che appena se può si fanno i porchetti qua è il primo momento guarda che la suite la vendo ma perché mi devi mettere sempre tutta bene? la vediamo la gomma la banca cerca un investitore chi sarà infortunato? doppio uno 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 che cazzo è? quasi guarda che non pago le tasse la banca ti conosce ho fatto i soldoni sto tu buona fortuna come hai fatto? c'è la cura vieni vieni sgancia vaga è successo qualcosa di brutto stai buona lì giochiamo qualcuno possiede già questa proprietà è ora di pagare l'affitto cazzo si chiama big time ggg ct dispiace non è il tuo ridotto a volte bisogna pagare il prezzo tiriamo i dati tiriamo i dati un sacco di soldi il tuo turno inizia ora doppio uno doppio uno doppio uno doppio uno doppio uno che va pure bene doppio uno si se venga i p.mil devi pagare questo giocatore giochiamo devi pagare l'affitto tiriamo i dati mia 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 no 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 ti interessa acquistare questa mia nel senso che un bloc vediamo posti quella dei vediamo posti quella che ha rubato quell'altra per il momento l'unico dove si potrebbe costruire è il blu se nessuno ce va ecco quanto in là ti spingerai ma cazzo questa ma la gomma cazzo questa città non è mai stata fatta bene vedo quando mi devo fermare adesso ottimo investimento è il tuo momento sicuramente volevi usare i tuoi soldi per qualcos'altro è ora di scoprire se sei fortunato o no fiumi che sì ecco 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 Non è vero, non è vero. mi ritiro Quasi-quasi gliela butteremo così. Appunto! tu la vuoi e posso fare anche a me che non ce l'ho giusto non ce l'ho ma tanto manca anche l'altro mi ritiro voglio la devi dare voglio la devi bocciare vota vota voi piglia sono apprezzato siamo un vincitore questa città non è mai stata fatta bella chi ho uno to, abbazzati oh si che sai come si fanno gli affari ahahahahah ma come la mettiamo io sempre uno mi ritiro vai vai offri offri ritiro ritiro vai in pancarotta a presto gratulazioni oh e ma unità hai ma c abilare non si capito è successivas è a queste 5 ponete praticamente è morto ormai se io te lo offro e mi ritiro no un po' troppo agita i dadi e vediamo cosa è in serbo per te il destino è rimasta 5 però gli ho detto ormai è finito ma io devo pure pagare non arrenderti, la perseveranza è la chiave del successo dammi un doppio, 1 ma, anzi no 1, 2 dammi un 4, dammi un 4, dammi un 4, dammi un 4, uuuuuh e ti devo pure pagare ho rotto il cazzo e basta bisogna pagare il prezzo non so se devo riattivare il tuo turno inizia ora no, no, ma lo chiedeva lui devi pagare l'affitto tiriamo i dati ciao, è stato un piacere non puoi permetterte l'ora, ma forse esiste un altro modo oh cazzo Mario devi comprarla tu questa eh ci stanno pure le gialle che volevo volendo eh tanto questo penso che ormai è fallito si però se lui si piglia l'arancione costituisce solo l'arancione però sto pieno di soldi quindi non puoi dire che hai ritirato per forza non so che sei così stupido off di v1 ma in dio questo è fallito oh ti devo cedere vai vai ah lo c'era un po' prima tu dici perché la vonna si rovinava questo minchia eh non riuscivamo più a costruire moriva molto presto beh hai dovuto perdere l'asta un'offertina un'offertina mo gliela farei a questo di prendermi due gialli mo gliela devo fare l'offertina tanto questo ormai è cotto si gli apri pure fa casa dolce casa che ne dici di apportare qualche miglioramento deve pagare questo giocatore vabbè deve pagare questo giocatore qua c'è su 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 te ne offro 400 400 e 1 ti vuoi proprio impiccare va bene, impiccati mi piace come hai sistemato questo posto il ragazzo fa che ha pagato 5 ha cominciato a ipotecare qualcuno possiede già questa proprietà è ora di pagare l'affitto se sei spostata la coda hai denaro sufficiente per acquistare questa proprietà puoi fare un investimento? parte della città sei a casa, forse è ora di gestire il tuo portafoglio, non credi? giro il prof insomma dammene una sola vuoi quello rosso? sì, quello rosso andrò da questa città non è mai stata tanto bella questa città è davvero carina questa città è davvero carina qual è la tua offerta? buongiorno buongiorno il tuo turno inizia ora sembra che tu abbia alcune cose su cui riflettere che scolatore che scolatore e ora sta in peggio agita i dadi e vediamo cos'è in serbo per te il destino Mario vuoi fare uno scambio? tu che vuoi scambiare? ti do il verde e tu mi dai il viol tu mi dai tipo 100 non so quanto vale però adesso 7 no ti prego non voglio andare la eh ma non la posso manco comprare questa proprietà costa troppo trova un modo per aumentare i tuoi fobbi posso ipotecare la roba no? quanto sei disposto a pagare? posso ipotecare niente posso ipotecare niente non devo comprare il verde devo fare prima lo scambio non devo comprare il verde sì non è vero è vero la roba è una persona è vero ma è vero non è vero proprio oh ragiona buco ma tanto c'hai tu l'altro no? si dai ho frenato un altro dai off 100 no ah possiamo costruire il momento è il tuo momento è il tuo momento ho visto che ho fai un po' fare spazca sicuramente volevi usare i tuoi soldi per qualcos'altro buona fortuna eh non ah Grazie a tutti. Grazie a tutti.